Ma buongiorno ragazzi, come state? Tutto bene? Io mi sono fatta questo trucco, sto facendo le prove trucco per quando nascerà il piccolino e poi ragazzi io non vedo l'ora che nasca il piccolino, fosse stato per me sarei diventata nonna già 25 anni e poi ragazzi abbiamo delle novità pazzesche in casa Guvi veramente delle chicche che sono prodotti per il viso, questa volta delle creme una crema viso con biopeptidi, questa qui non so se la vedete bene Grazie a tutti Grazie a tutti